Come una cordata d'alpinisti sfilano le vertiginose ragazze a mezza costa della giogaia dei grattacieli. Ma forse è la giuria provare un po' di vertigine. Sull'infinito fondale del cielo si profilano le concorrenti al titolo di regginetta del pullover. Non si può negare che mettano in risalto il loro indumento. Rimodellano in sagome superbe il lavoro della magliaia. Dimostrano quanto riscaldi la lana che indossano. E la giuria fa del suo meglio per giudicare solo i pullover. Il modo di accapararsi i voti è spesso prepotente. E questo ha vinto perché aveva buoni argomenti.